Adesso ditemi un po' nel segmento C se avete mai visto un tetto panoramico del genere. È a controllo elettronico e guardate che spettacolo. Questa è la nuova Renault Symbioz che con 4,41 metri di lunghezza va ad inserirsi nel pieno segmento C per quanto riguarda il listino Renault tra la più grande Arcana e la più piccola Captur. La base e la piattaforma è la stessa ma qui abbiamo tantissimo spazio molto più che nelle sorelle sia per quanto riguarda l'abitabilità posteriore che quello nel bagagliaio. La macchina è interessante anche perché si tratta di un'ibrida full, è una full hybrid e anche lato tecnologia c'è qualche chicca interessante. Adesso in questo video ve la faccio vedere sia da fuori nel design che da dentro ma voi non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, lasciate un like e alla fine del video fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Con 4,41 metri di lunghezza questa nuova Symbioz va a posizionarsi al listino esattamente nel mezzo tra la più grande Arcana e la più piccola Captur. Guardandola però e confrontandola direttamente con l'Arcana questa Symbioz maschera molto bene quelle che sono le sue dimensioni perché effettivamente sembra più lunga di quanto in realtà sia il passo, considerate è lo stesso delle sorelle per cui siamo all'incirca sui 2,70 metri, però a guardarla di profilo la macchina, come vi ho detto prima, sembra più grande, non so se dalle telecamere si riesce a percepire comunque ugualmente questa sensazione. Sarà per i cerchi che su questa versione Spie Alpine, per cui quella più sportiva, sono grandi e secondo me stanno molto bene, riescono molto bene a slanciare quella che è la linea, sono da 19 pollici e che si tratti dell'allestimento sportivo lo si riconosce anche dai badge che ci sono qui sulla fiancata e da una serie di elementi come per esempio queste fasce scure nella parte bassa all'altezza delle minigonne e dagli inserti opachi e lucidi che troviamo sia al posteriore che all'anteriore. A seconda dell'allestimento questi dettagli cambiano perché per esempio sulle versioni base le modanature sono in colore argento e anche i cerchi sono più piccoli. La parte frontale è sicuramente quella che mi piace di più con i fari che sono full led, per quanto riguarda la parte abbagliante e anabbagliante sono qui sotto, mentre la firma luminosa qui a mezza losanga si trova in basso e riprende appunto la losanga del logo che invece è incastonato qui al centro in questa sorta di similgriglia perché non è una griglia a tutti gli effetti che riesce a garantire questo effetto tridimensionale grazie al fatto che è scavata al centro e con tutti questi listelli in rilievo. La griglia vera e propria si trova qui sotto nella parte bassa dove al centro c'è anche la telecamera anteriore del sistema a 360 gradi. Il profilo, ve l'ho fatto vedere prima, è slanciato e mi ha colpito fin da subito l'altezza da terra perché nonostante si tratti di una trazione anteriore pura che non arriverà almeno per il momento disponibile con la trazione integrale, l'altezza da terra è generosa e questo fa percepire comunque l'indole di una macchina che vuole essere sfruttabile a 360 gradi sia in famiglia perché comunque ricorda nelle proporzioni ovviamente quelle di un SUV ma anche devo dire di una station wagon perché i cerchi grandi gli danno la sensazione che sia più bassa e più acquattata a terra ma appunto elementi come l'altezza da terra è un chiaro rimando al mondo dei SUV. Il posteriore anche mi piace, devo dire, perché presenta un'alternanza di linee morbide e invece linee più squadrate. Guardate per esempio questa che passando sopra le maniglie arriva a definire quella che è la geometria del faro e poi guardate quante nervature troviamo sul portellone. Una, due, tre, quattro, per cui parecchie che vanno a definire quelle che sono comunque le proporzioni di una macchina che vuole essere elegante ma ha anche un minimo di sportività. Qui a destra c'è il tappo della benzina che è tradizionale, considerando che la macchina arriverà con un solo motore magari mi sarei aspettato un sistema Easy Fuel per cui senza tappo. Ma guardiamola di nuovo nella sua interezza di tre quarti posteriore mi abbasso per darvi anche un'idea da questa prospettiva ma passiamo a vedere gli interni. Uno dei punti di forza della Symbian è sicuramente il bagagliaio che è letteralmente gigante. Allora adesso ve lo faccio vedere, cerco di spostarvi la cappelliera in modo tale che entri più luce e si parte da circa 490 litri a disposizione, 492 per la precisione, di capacità minima appunto sfruttabile con il divano della seconda fila tirato tutto indietro. Qui sotto c'è un doppio fondo abbastanza ampio, guardate per esempio per avere un riferimento sulla profondità, capacità del bagagliaio che però può arrivare fino a 624 litri spostando appunto in avanti il sedile scorrevole. Ne approfitto per farvelo vedere subito, qui sotto c'è la leva e va avanti di più arecchio perché ha una escursione longitudinale compresa tra i 16 e i 18 cm per cui assolutamente niente male. L'interno del vano è piuttosto buio ma cerco comunque in qualche modo di darvi un'idea di quelli che sono gli spazi e gli accessori per poter organizzare al meglio il carico come per esempio questi ganci che vedete sulla parte destra, ganci che si trovano anche poi su quella sinistra insieme ad una serie poi di anelli fermacarico qui sotto il piano. Ma chiudo il portellone che può essere anche comunque elettroattuato e vi faccio vedere come si sta dietro. Allora la seduta è piuttosto alta perché qui sotto comunque c'è il pacco batterie del sistema ibrido e questo permette di avere una visione molto buona devo dire anche se dalla telecamera sembra meno perché comunque il poggiatesta sembra più ingombrante di quanto sia in realtà e da questa posizione rialzata si riesce comunque ad avere un'ottima visibilità tutto intorno. Lo spazio a disposizione è generoso sia per quanto riguarda i piedi che le ginocchia che la testa e questo anche perché il tetto panoramico non ha una tendina che si chiude per non far passare la luce e tra poco capirete perché anche se l'avete sicuramente intuito dalla presentazione dall'intro di questo video. Qui al centro a disposizione degli occupanti ci sono le bocchette della reazione, una presa di ricarica da 12V e anche due USB-C. Dietro gli schienali ecco due retine mentre gli attacchi Isofix sono nascosti diciamo dietro questa paratia in pelle. Il divano, lo schienale qui è scomponibile, è abbattibile in configurazione 40-20-40 per cui è comodo per esempio abbassare la porta centrale per far passare oggetti lunghi ma a questo punto direi che possiamo parlare dell'anteriore. Per farvele vedere però in prima persona vado direttamente al posto guida. Mi accomodo a bordo e vado tutto indietro con il sedile per farvi avere una panoramica più completa. Allora la configurazione è la stessa che abbiamo già provato e apprezzato comunque sulle ultime Clio Captur e anche Arcana con questo schermo dell'infotainment posizionato così verticalmente al centro della plancia. Anche la strumentazione è completamente digitale ed è stata aggiornata nella grafica e si può personalizzare attraverso questo tasto qui sul volante. Una cosa molto interessante del sistema di infotainment è che il software che gira qui sopra è il Google Automotive per cui ritroviamo per comodità gran parte delle applicazioni e delle icone con cui siamo abituati a interagire sullo smartphone. Per esempio c'è Google Maps, c'è il Play Store che è il gestore delle applicazioni di Android e anche l'assistente Google oltre a tutta una serie di altre applicazioni come per esempio il calendario o altre che si possono scaricare che richiamano esattamente quelle che troviamo sui telefoni. L'avere Google Maps è molto comodo perché vedete l'interfaccia è la stessa che abbiamo appunto sull'applicazione per smartphone e quasi fa venire meno voglia di collegare Apple Capray e Android Auto che comunque sono compatibili con tutto il sistema. La leva del cambio è qui al centro posizionata su questa specie di mensola, mensola che nella configurazione ha permesso comunque di ricavare tantissimo spazio e disposizione per gli oggetti sia nella parte superiore dove ci sono una presa da 12V e due USB-C che nella parte inferiore qui sotto dove all'ormai classico slot dove inserire la chiave della macchina si abbinano una vasca qui sotto rivestita in gomma e i classici portabicchieri qui al centro. Devo dire che i materiali sono di piacevole fattura, per esempio abbiamo una plastica più dura qui sulla portiera ma qui al centro un tessuto e c'è anche il LED dell'illuminazione ambientale che la va a tagliare creando questo bell'effetto di giochi tra luce e ombre mentre qui sotto le tasche nelle portiere sono spaziose ma come sentite non rivestite all'interno. Questa è una versione Esprit Alpine per cui quella più sportiva in gamma e si riconosce anche dalla conformazione dei sedili che sono più sportiveggianti per cui hanno questi fianchetti più ingombranti e si alterna questo tessuto con questa linea centrale a un'ecopelle sui fianchetti. Le cuciture a contrasto sono blu con la bandierina francese qui sul lato sinistro con la cucitura che appunto nel colore va a riprendere la bandiera stessa. Il blu lo si ritrova anche sulla plancia davanti al sedile del passeggero con questa finitura sfumata che appunto va a riprendere il colore della bandiera. L'impianto audio di serie su questo Esprit Alpine è l'Armand Cardon per cui se parliamo comunque di un sistema di audio di infotelematica comunque avanzato e sicuramente molto apprezzato. Per quanto riguarda gli interni però ho finito e andiamo un attimo fuori per tirare le conclusioni e parlare non dei prezzi perché ancora non li abbiamo a disposizione ma dell'arrivo sul mercato della macchina e con quali motori arriverà appunto e ci saranno sotto il cofano. Un tetto così però ce l'ha solo lei si tratta di un sistema panoramico molto particolare perché ha controllo elettronico come vi ho detto prima non c'è una tendina per non far passare la luce ma attraverso questo comando per cui classico comando dei tetti apribili guardate cosa succede ogni sezione il tetto è composto da una serie di sezioni può essere regolata nell'opacità su due differenti livelli per arrivare appunto a questo punto in cui i raggi solari non passano si può avere poi completamente trasparente come in questo caso ma è un sistema sicuramente molto particolare sicuramente scenografico. La nuova Symbioz arriverà nelle concessionarie a settembre con gli ordini che invece apriranno a giugno per quanto riguarda invece le motorizzazioni sotto il cofano troviamo un solo motore che è quello che abbiamo già potuto provare e apprezzare su Clio, Captur e Austral si tratta del sistema full hybrid che abbia un 1.6 aspirato appunto a benzina a un elettrico per una potenza complessiva di 145 cavalli una coppia massima di circa 250 Nm la trazione è solamente anteriore ma la particolarità di questo powertrain è il cambio che è di derivazione Formula 1 ed è un multimodale ci sono infatti 4 marce dedicate alla marcia a benzina e 2 all'elettrica che si mischiano insieme per poter garantire alla macchina una quindicina di rapporti per poter essere sempre in coppia e permettere al motore di lavorare sempre nel suo range ottimale di giri sia in ottica di comfort di marcia per cui mi viene in mente per esempio l'insonorizzazione che in ottica di efficienza e infatti guardando anche le altre prove delle altre Renault con questo motore l'efficienza e i consumi bassi sono sicuramente uno dei punti di forza di questa intera configurazione ma fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa Symbios lasciate un like però e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video Grazie